Nessun danno in California, per fortuna, anche perché c'è stato purtroppo uno sciame sismico che ha coinvolto questo stato degli Stati Uniti d'America colpendo la zona in questione. La scossa più forte è stata avvertita in modo distinto in diverse città. L'epicentro della scossa più forte, di 4.6, si è verificata a 6.3 km di profondità e a circa 22 km a nord-est di González, nella California del centro centrale. Lo ha reso noto l'USGS. Il sisma si è verificato, si è appalesato anche nella parte settentrionale dello Stato. Dopo la forte scossa si sono registrate diverse repliche successive, di cui una decina, quindi 10 circa, di magnitudo superiore ai 2.5. Il video termina qua. Una situazione, dunque, quella della California, già fortemente compromessa, perché vi ricordo che in passato ci sono stati altri terremoti, ma per fortuna non ci sono stati danni. Speriamo che questi terremoti si estivano, anche se è impossibile, perché vi ricordo che sotto nella Terra ci sono sempre, e in continua evoluzione, movimenti chiamati movimenti tellurici. Il video termina qua. Un saluto, iscrivetevi e a presto.